La moglie di Gesualdo d'Avenosa era una dame, io sono molto contento di essere nel castello della sua illustre famiglia. Purtroppo, come molti sanno, ha fatto una brutta fine, però al contrario penso che stasera sarà un po' 100.000. Bene, ciao a tutti, siamo appena arrivati a Basto e si dice sempre, ma è sempre la verità che è bello essere qui. Io già sono da Basto ma non mi ricordo né quando, né con chi, né dove, qui è una specie di prima e noctis. Sono già riuscito a rompere un pezzo della batteria e me ne scuso subito con il proprietario, spero non sei tu, no, fantastico. Il posto è magnetico, non so che cos'è, sembra essere la casa del padrone di Basto, ci deve essere sicuramente un padrone a Basto, un capo assoluto e questa deve essere la casa sua, vedo anche scritto a Basso il padrone, ci sono delle cose e delle scritte sindacali, quindi è molto bello, saremo contenti di svolare qui. Non lo trovo! E ci mettiamo. Ciao, siamo qua a Basto, stasera con il pintetto di Paolo, vi saluto a tutti e voi del sito, ogni tanto lo guardo anch'io perché mi interessa rimanere aggiornato su quello che pensano i lettori del sito e poi ci sono sempre molte notizie interessanti. Stasera suoniamo a Basto ed è l'ultimo concerto prima di andare a Berchida dove suoneremo al festival che organizza Paolo e suoneremo al ventennale del festival e sarà anche una bella occasione per suonare insieme. Comunque stasera a Basto ed è un posto bellissimo anche in città. da Spermi Donnie Comunque stasera a Byrho Pitogno Grazie a tutti.